Ciao, ben tornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo ad approfondire un attimino la questione Euro UEFA Football o UEFA Football, insomma quell'app che attraverso le cripto permette di scommettere in modalità exchange, possiamo dire, punta e banca e garantisce un 2,5% medio giornaliero e se perdete sulle giocate che loro vi suggeriscono, vi rimborsano completamente la giocata. Allora, io ho scritto, come vedete sul blog, questo articolo, perché mi sono chiesto ma è una truffa o è verità? Fino a pochissimi giorni fa non ne sapevo nulla, però poi mi sono, tra virgolette, appassionato a voler conoscere meglio questa situazione e mi sono fatto una mia idea, quindi questo video è semplicemente per raccontarvi la mia esperienza. Ho creato un account, ho caricato onestamente il minimo sindacale perché il mio obiettivo non era guadagnare attraverso quelle funzioni che promette perché c'avevo già un'idea abbastanza chiara, ho semplicemente voluto fare una prova sul campo per poi portarvi la mia esperienza. Siti molto più autorevoli del mio, blog dedicati alle cripto, alle occasioni finanziarie, alle questioni finanziarie hanno già detto la verità su questo sistema. Questo sistema, secondo quello che dicono queste fonti, è un classico sistema Ponzi. Il sistema Ponzi come funziona? È innanzitutto illegale, partiamo da questa cosa, il sistema Ponzi è un sistema illegale perché come funziona? Si basa sulla continua acquisizione di nuovi clienti, quindi io, Alessandro come cliente, porto dentro altri clienti, quei clienti portano altri clienti, eccetera, eccetera, ed è chiamato anche marketing piramidale perché sostanzialmente l'obiettivo è di far entrare sempre soldi attraverso i nuovi clienti che poi vengono ridistribuiti a cascata per dare l'impressione che c'è un movimento effettivo economico alle spalle che però in realtà il movimento economico lo generano solamente gli iscritti. Attualmente nel gruppo ufficiale di UEFA Football ci sono 55.000 persone, quindi 55.000 persone, me compresa, che hanno finanziato questa cosa. Io l'ho finanziata, ripeto, al minimo possibile e tanto mi hanno già bannato, quindi a breve risuccederà perché adesso vi racconto quello che ho fatto. Mi sono iscritto ieri, sto dentro da meno di 24 ore e mi hanno già bannato. Però a questo ci arrivo tra pochissimi minuti. All'inizio, da subito, quello che mi era sembrato poco chiaro era il fatto che un'app si chiamasse UEFA Football senza avere la licenza UEFA per farlo. è un po' come quel sito per streaming illegali delle partite che porta il nome di uno dei più forti giocatori del mondo senza fargli pubblicità al sito illegale, ovviamente, ma non è che è autorizzato a chiamarsi in quel modo. Questa è un po' la stessa cosa, la stessa dinamica. È strano che un progetto finanziario effettivo, reale, ufficiale, possa avere il nome UEFA senza che la UEFA sia effettivamente parte integrante di questa licenza, no? Cioè, non è molto credibile. Però, vabbè, questo, lasciamolo. Passiamo in cavalleria. La seconda cosa che non mi ha convinto, e questa, come informazione, l'ho trovata su questi blog che trovate linkati nel mio articolo, in modo tale che potete andare a vedere la fonte ufficiale, è che gli investitori che UEFA Football dichiara, ossia il Consorzio degli Emirati Arabi e City Football, che sarebbero i due più grandi finanziatori di questo progetto, in realtà, in questo progetto, non ci hanno mai messo neanche un euro. Quindi, usi un nome che non puoi usare, dichiari dei finanziatori che in realtà non c'hai, a me un po' mi puzza, personalmente. In più, garantisci una rendita sicura. Non si perde mai, cioè, nel senso, se tu fai solo quello che loro ti dicono, ti rimborsano, se perdi, quello che io mi sono chiesto è, ma sti soldi, chi ce li regala? Perché, di fatto, ci stanno regalando dei soldi. Dopo aver scritto questo articolo, devo essere onesto, ho ricevuto tante mail e tanti messaggi, alcuni negativi ed altri positivi. Quelli negativi, sostanzialmente, mi dicevano ah, sei invidioso, ah, sei infallito, perché io mi... Uno mi ha scritto, sei infallito perché io sto a fare soldi facili e tu rosichi. Mamma mia, che cazzo me ne... Cioè, obiettivamente, se tutti stanno guadagnando dei soldi, a me perché mi dovrebbe dare fastidio? Cioè, io già mi sento un miracolato perché ho trasformato una passione in un lavoro. Mi mantengo con il mio lavoro. Faccio quello che mi piace, se altre persone guadagnano, perché dovrebbe darmi fastidio? Non era questo l'obiettivo. Il mio obiettivo non è chiudere UEFA Football. Cioè, quelli... Ma proprio, de me, ma che gliene frega? Manco me pensano. Il mio unico obiettivo, siccome me l'ha posto un mio cliente, è stato semplicemente dirmi ma sarà vera sta cosa? Cioè, proviamo ad analizzarla. Se poi è vera, io tanto ormai i soldi sopra ce li ho messi, e io tra un mese vi dico, ora, me sto a arricchire, fatelo pure voi. Qual è il problema? Però, però, ci stanno questi elementi oscuri, un po' poco chiari, che vanno menzionati, perché altrimenti... Cioè, perché dovremmo dire che è tutto giusto se alcune cose non lo sono? Quindi, alcuni messaggi, insomma, se è un fallito, io sto a fare soldi facili, e cose... Altri, invece, che magari gli ho fatto aprire gli occhi su una situazione che poteva diventare pericolosa. Ma perché può diventare pericolosa? Perché, come vi dicevo, lo schema Ponzi si basa su questo continuo integrare denaro da parte degli utenti. Allora, tu, per portare un utente a mettere dentro mille, cinquemila, diecimila euro, come puoi fare? Non è che gli puoi dire subito il primo giorno dammi mille euro, perché molte persone non te le darebbero. Quindi tu gli dici, parti con venti euro. Tu parti un mese con venti euro, vedi che a fine mese sono diventate quaranta, o cinquanta, o sessanta, e le puoi ritirare. Quindi dici, oh, ho guadagnato sessanta. Allora, sai che c'è? Mettiamo cento. Quelle cento diventano duecento, trecento, e le ritiri perché fai esattamente quello che ti dicono loro, non più del due per cento, due virgola cinque per cento al giorno. Io, che volevo capire cosa c'era dietro, sono entrato ieri, non ho giocato quello che hanno detto loro, perché loro mi proponevano partite in cui avrei avuto un guadagno minimo, sono i miei soldi, gioco il cazzo che mi pare. Quindi ho cominciato a giocare altre partite, sapendo come muovermi, ma non perché sono un genio, semplicemente perché in modalità punta e banca è quasi più facile vincere, tanto più che c'erano il punta e banca sui risultati esatti, su dieci partite ne ho prese nove, perché dovevo semplicemente sbagliare il risultato esatto di quella partita. Quindi il mio primo giorno ha avuto un margine di profitto molto più alto del 2%. E mi hanno bannato. Mi hanno bannato il profilo. Mi hanno bannato il profilo dicendomi, guarda che se tu giochi cose che noi non suggeriamo, non vieni rimborsato. Quindi per questo motivo sei stato bannato. Al che io ho detto, vabbè, ma a te che te frega? Se perdo, perdo a mio rischio e pericolo. Non è che sono venuto a chiederti di ridarmi i soldi che ho perso. Gli ho persi. È come dal bookmaker. Non è che tu dal bookmaker vai lì, giochi, e il bookmaker ti dice oh, attento, eh, non giocare troppo. Cioè, mi prendo i miei rischi, no? Bene, vi faccio vedere il messaggio che abbiamo avuto. L'ho dovuto mandare via mail per farvelo vedere in schermo, insomma. Leggi nel dettaglio, fammi sapere, dopo aver letto, sopra mi spiegava tutte queste cose che non posso giocare come mi pare. Quindi io gli dico ok, ho capito tutto, grazie, l'account è ancora sospeso. Ora ti faccio riattaccare l'account. Io ovviamente ho scritto apposta queste cose per avercele scritte. E lui mi dice molto chiaramente se giochi di nuovo il tuo account viene bloccato in modo permanente. Cioè, se io avessi messo sopra invece che 20 euro 2000 euro, loro mi avrebbero preso i miei 2000 euro semplicemente perché io giocavo con i miei soldi quello che mi pareva. E io gli dico sì, sì, ho capito, posso giocare solo le due partite al giorno suggerite da voi, giusto? Ok, dico cazzo, mettimelo per iscritto. E lui, segui il canale Telegram dove dicono che devi giocare solo quello, devi investire secondo il piano di investimento. Ma il piano di investimento è fatto in questo modo per un motivo psicologico molto semplice. Se io inizio con 1000 euro anche il 2% al giorno di 1000 euro sono piccole cifre. cioè anzi 1000 euro è già tanto se io inizio con 100 euro il 2,5% al giorno sono 2 euro e mezzo considerando che questa è una cosa prevalentemente da Opportunity Seekers gli Opportunity Seekers sono quella tipologia di persone che è sempre alla ricerca del vantaggio economico sbrigativo del fare il meno possibile c'è proprio questo termine che viene chiamato Opportunity Seekers quindi quello che sfrutta l'opportunità che non c'è niente di male cioè ripetiamolo se tante volte ci fosse qualcuno che pensa che io non voglio che la gente si arricchisca o che voglio che la gente va a fare i soldi solo spaccandosi la schiena in miniera non è così se trovate un modo legale che stando così tutto il giorno mi fa guadagnare ditemelo che io lo faccio quindi non sono contro il guadagno facile sono contro il guadagno facile se in realtà poi rischio di rimanere inculato perché appunto questa condizione psicologica di portarti ad utilizzare capitali più alti per avere margini più alti questa cosa del fatto di invogliare altre persone perché tu guadagnerai dai soldi che metteranno le altre persone prima o poi nei sistema Ponzi porta chi è all'apice di questa cosa a chiudere tutto prendere tutto e lasciare tutti col cetriolo adesso questa è una situazione che probabilmente è cominciata da poco perché mi sono andato a vedere diciamo i movimenti è nata se non ho capito male a marzo del 2022 quindi è probabile che qualche mese magari un anno magari anche più di un anno quindi c'è modo di continuare a guadagnarci pur sapendo che è un rischio però diciamo che è partita da poco quindi da poco ci sarà ancora un po' di vita da poter sfruttare tra l'altro dopo di questa ne sono subito nate altre io sono stato contattato anche qui diciamo ho già capito l'andazzo per essere sfruttato come influencer di youtuber quindi parlare di questa altra piattaforma che è una piattaforma rivale a UEFA neanche la nomino per farvi capire che non ho nessuna niente contro UEFA in sé per sé ma semplicemente era un mettere al corrente le persone del rischio che corrono perché se tu hai 10.000 euro da parte pensi di aver trovato la gallina delle uova d'oro le carichi tutte lì sopra e poi dal da un giorno al domani perché così accadrà dal giorno alla notte chiudono tu perdi 10.000 euro cioè non è per le persone che rischiano di perdere le 100 euro il problema a me pure se adesso queste 20 euro le perderò perché magari vengo di nuovo bannato o quello che a me che me frega le 20 euro ma pure che erano 200 euro che me frega le 200 euro però a livello psicologico l'obiettivo non è farti giocare con le 200 euro è farti giocare con capitali maggiori poi altra piccola precisazione loro per ogni commissione di ritiro che fai si tengono il 5% il 5% non è esattamente poco perché se tu consideri che quando ritiri sulla tua banca si tengono l'1% alcune banche il 5% sul ritiro non sono pochi soldi cioè ogni 100 euro che prendi 5 euro si tengono loro non è poco se consideriamo il fatto che poi quelle 5 euro saranno utilizzate per continuare a spalmare questa situazione fino a che spalmi 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 e poi arrivi al punto che hai troppi clienti a cui dare soldi e quindi chiudi e te ne vai questo è quantomeno il modo in cui funziona lo schema Ponzi e il modo in cui le persone che ripeto più esperte di me più addentrate di me nel sistema finanziario hanno analizzato questo possibile piattaforma poi se funziona rimarrà in vita per sempre e funzionerà per sempre io sto felice perché se ho clienti che guadagnano significa che sono clienti che avranno ancora soldi per rimanere abbonati al superfoglio perché tanto due giocate al giorno è una rottura di palle nessuno fa solo due giocate al giorno è ovvio che giochi anche altro altrove quindi per me se tutti guadagnano è meglio perché significa che ci sono più persone che hanno poi soldi da investire in altro magari essendo già mie clienti decidono di investirle ancora nel mio progetto quindi io non so contro il guadagno sarei eventualmente contro il fatto che gli vengano rubati dei soldi e questa cosa è nata in un momento in cui non so se avete visto su telegram la settimana scorsa il problema si era posto con quel ragazzo che aveva speso quasi tutti i suoi risparmi al casino quindi diciamo che questo senso di moralità di avvisare gli altri al rischio che potrebbero correre mi è anche accentuato dopo aver letto quella mail di quel ragazzo che veramente l'ho pubblicata su telegram andatela a leggere è una mail che ti ghiaccia un po' i polsi sentire una persona che dice fortunatamente non ho famiglia da mantenere perché altrimenti veramente non avrei saputo come fare sono solo io penso solo a come poter recuperare quei soldi cioè molto molto pesante questa è una situazione che al momento no assolutamente no neanche potrebbe magari neanche è uno schema Ponzi chi l'ha analizzata più importante di me ha detto di sì secondo me qualcosa di strano c'è perché altrimenti non capisco perché non posso giocare i miei soldi cioè se io quei soldi li perdo per te è solo un vantaggio non mi devi ripagare quindi perché mi devi minacciare di bloccarmi per sempre se io gioco per conto mio non c'ha senso come cosa no quindi nome non autorizzato finanziatori falsi io i miei soldi li carico però non li posso usare come mi pare sono tre elementi che a me non mi convincono molto poi se questo sistema funzionerà per tutta la vita e tutti smetteremo di lavorare grazie a questo sistema ben venga ne sarò felice però il mio obiettivo diciamo era semplicemente condividere l'opinione questa è la mia opinione su come ho avuto io il rapporto in 24 ore tutto questo non è anche a dire sai dopo un anno ci può essere che succedono cose positive cose negative in 24 ore questo dopo un anno potrebbe succedere qualunque cosa tra l'altro sui progetti cripto non è la prima volta che succede una cosa del genere adesso non mi sono andato a ricercare il nome di quella criptovaluta però era una criptovaluta che per tanti mesi è stata stabile e sembrava che continuava a crescere come valore quindi il mercato continuava a immettere denaro su questa criptovaluta perché continuava a crescere continuava a crescere dal giorno alla notte sono spariti lasciando un buco che era se non ricordo male di 35 milioni di dollari cioè hanno fatto un buco pazzesco e tutta la gente che aveva investito i suoi soldi in quello pensando che fosse un guadagno facile non li ha ripresi non è che li riprendi chi te le ridà quindi un progetto in cui non si capisce chi è che ci sta facendo guadagnare a noi chi è che ci sta regalando questi soldi a me fa venire il dubbio che da un giorno all'altro potrebbero non esserci più soldi per nessuno poi la persona le persone che addirittura arrivano ad offendermi a pensare appunto a dirmi ah io sto a fare soldi facili mi fa pensare che proprio la clientela il target di questa cosa è un target un pochino basso cioè un pochino da polli ok perché se tu guadagni cioè io ringrazio Dio il mio progetto va bene no ma avete mai sentito dire in qualche video ah a coglioni voi non guadagnate in cazzo io sto a fare i sordi il mio progetto va bene io sono felice faccio il mio lavoro e continuo a farlo felicemente non mi verrebbe mai in mente di andare a scrivere a uno ah coglione io sto a fare i sordi facili tu continua a lavorare che sei in coglione cioè ti fa capire che hai a livello psicologico qualche piccolo problema non so come definirlo e quindi niente questo è semplicemente quello che è stato finora il mio rapporto con UEFA e la mia esperienza personale sul blog ripeto trovate i ah vedi questo ti faceva aumentare la visualizzazione l'ho capito solo adesso che abbiamo finito il video sul blog trovate le fonti che vi permettono di andare ad informarvi semplicemente la cosa importante è essere informati qui vi spiega cos'è lo schema Ponzi e qui un sito che spiega in maniera approfondita agli investitori che non esistono eccetera eccetera quindi l'importante è essere informati se poi uno dice io ho 1000 euro che invece di andamme non so di andamme a fare una vacanza st'estate ho preferito metterle su UEFA so che le posso perdere però se sto attento riesco a ritirarne magari 3000 tra 4 mesi mi corro il rischio e ritiro 3000 tra 4 mesi o uno è consapevole ma d'altronde è anche anche le scommesse funzionano così che sulle scommesse abbiamo qualche certezza di vincere è ovvio scommetto consapevolmente che potrei perdere e questa sarebbe la stessa cosa però qui sembra che nessuno perde eppure se io voglio giocare per conto mio e quindi mettermi a rischio e perdere non lo posso fare questo è molto molto strano è la prima volta che sento un fondo di investimento quello che ti pare che ti dice se giochi di nuovo il tuo account viene bloccato in modo permanente cioè ma i soldi sono mia quindi questa è la mia esperienza poi ognuno è libero di fare come crede ognuno con i propri soldi ragazzi se voi volete mettere 10.000 euro sul fatto che la Sampdoria di Genpaolo che oggi ha perso 3 a 0 in casa col Monza o 2 a 0 in casa col Monza non mi ricordo comunque ultima in classifica ultima in classifica due punti e volete mettere 10.000 euro che la Sampdoria vince lo scudetto con i vostri soldi la cosa bella della vita è che potete fare tutto quello che volete quindi nessuno io assolutamente no io che spendo soldi in tatuaggi sono tatuato ovunque ho speso veramente più di 10.000 euro in statuaggi ma figuratevi se io mi metto a dirvi non scommettete lì non fate quello cioè ognuno è libero di farlo l'importante è la consapevolezza e magari di non trovare qualcuno che pensa che è ah mazza è tutto figo è tutto a posto in realtà non del tutto così chiaro e così a posto tutto qui per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video